Di Joseph Pulitzer, morto un secolo e dieci anni fa, ci sono state tramandate molte citazioni autorevoli. Ne scelgo una che mi pare centrata. Diceva, non diventerò mai presidente degli Stati Uniti, ma ne farò certamente eleggere uno. Non ho dubbi, visto l'impatto sulla società americana di questa figura, attraverso i vari stadi del suo percorso professionale e di vita. Giornalista, direttore di giornale, editore di giornali. Ha avuto un grande successo, eppure questo grande successo è stato oscurato da un'altra cosa che porta il suo nome con suo merito, il premio giornalistico Pulitzer, che lui volle fortemente e che fu istituito sette anni dopo la sua morte. Di Pulitzer girano grandi definizioni, visionario, arrogante, irriducibile, irreprensibile. Ne scelgo una più semplice, era un giornalista, un grandissimo giornalista.